Il potenziamento e l'ammodernamento dell'edilizia scolastica, sportiva e culturale per migliorare i servizi a favore degli alunni e delle loro famiglie sono gli obiettivi dei progetti da finanziare con i fondi del PNRR. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Cabibbo. Oggi abbiamo presentato i progetti che sono stati seguiti dal referato dei lavori pubblici e quindi in modo particolare del sottoscritto per quanto riguarda l'edilizia scolastica, l'impiantistica sportiva e l'edilizia culturale. Si tratta di nuove mense, di nuove palestre, di un asilo nido e di impianti sportivi che andranno a soddisfare le esigenze che sono state individuate dai nostri uffici. Non è quindi il libro dei sogni ma si tratta di dare con dei progetti delle concrete risposte alle esigenze della città di Pordenone. Naturalmente confidiamo che questi progetti con il grande lavoro che è stato fatto dagli uffici del Comune di Pordenone possano trovare accoglimento. Diversamente sono tutte idee e sono tutte progettazioni che potremmo utilizzare in futuro ripeto per dare delle risposte concrete. Parliamo all'incirca di un totale di 12 milioni di euro che se sommiamo agli altri bandi PNRR e agli altri progetti già finanziati hanno un totale di 60 milioni di euro quindi di nuovi progetti e di opere che potrebbero essere realizzate nel Comune di Pordenone. I progetti riguardano la ricostruzione della scuola primaria Beato Dorico, la realizzazione delle palestre nelle scuole primarie Narvesa e Lombardo Radice, una piattaforma polifunzionale di 40x40 per il basket, pallavolo e calcetto all'Istituto Flora, la mensa alla scuola primaria Grigoletti, il nuovo asilo di Torre da realizzare in via Musile e l'adeguamento strutturale della nuova sede della Polizia Locale in via Concordia. Il sindaco Alessandro Ciriani commenta le complessità legate alla realizzazione dei progetti. Questi finanziamenti ci consentiranno di continuare un'opera di rigenerazione complessiva della nostra città. Preoccupano sicuramente le voci, le notizie su questi continui rincari dei prezzi e sulla carenza di materie prime, considerate che ultimamente non riceviamo neanche più i pali della luce. Un ulteriore aumento di prezzi significerebbe sballare i quadri economici e la necessità di trovarli da qualche altra parte. Già oggi sulla stampa si parla di 10 miliardi che mancano a causa degli extra prezzi rispetto ai progetti già finanziati. Noi abbiamo cercato di essere il più cauti possibile e speriamo al contrario di vedere un arretramento dei costi delle materie prime e dei prezzi per le opere che dobbiamo realizzare. Purtroppo c'è qualcuno che inizia a parlare di crisi sistemica, quindi non più di una crisi passeggera e questo potrebbe comportare dei riflessi pesantemente negativi nei confronti delle opere che dobbiamo realizzare. Ringrazio però i nostri uffici e i nostri tecnici perché siamo costantemente in riunione per consentire di raggiungere quei traguardi di avere una città più moderna, più efficiente e più funzionale. Ed infine, riguardo allo stadio, il sindaco ha chiarito di aver appena concluso un incontro con la Lega Pro in cui si spiegava che per ottenere finanziamenti per questo genere di strutture gli impianti devono essere remunerativi e quindi dotati di altri servizi oltre a quelli meramente sportivi considerato che per la loro realizzazione è previsto l'intervento del privato.